Il Ravello Lab è un team tank di carattere europeo sulle politiche culturali europee per far avanzare l'idea che la cultura può essere un vero e proprio asse di sviluppo sia di carattere economico che sia di carattere sociale. Il Ravello Lab è promosso da FederCulture che io rappresento e dal Centro Universitario per i beni e le attività culturali che ha sede a Ravello, un centro che ha origini nel Consiglio d'Europa tantissimi anni fa e che noi abbiamo immaginato essere una location ideale nella sua splendida cornice di Villa Rufolo a Ravello per il nostro pensatoio. Porteremo ad avere tantissime esperienze, soprattutto esperienze europee, che dimostrano e i dati ce lo confermano che ad esempio nel settore delle industrie culturali e creative esiste la possibilità di fare impresa, di fare occupazione, di fare buona occupazione soprattutto per i giovani, valorizzando i tanti talenti che oggi purtroppo nel nostro paese sono un po' messi in difficoltà, sono un po' disagi. Si parla tanto di politica di sviluppo, nessuno prende mai in considerazione la cultura come elemento piattaforma di sviluppo. Noi chiediamo e crediamo che invece questo vada fatto e questo vada richiesto alla politica. L'esperienza ad esempio delle capitali europee della cultura ha dimostrato che quando c'è la candidatura alla capitali europea della cultura è il sindaco che in qualche modo prende la bandiera della candidatura e che si impegna dandoci una prospettiva di lungo termine di 5, 6, 7 anni, quindi entrando in quelli che sono i protocolli richiesti dalla Commissione europea per la candidatura e entra in una logica di pianificazione strategica e utilizza l'occasione della candidatura a capitale europea della cultura per ripensare il territorio, per ripensare l'urbanistica, le infrastrutture, la mobilità, i trasporti, le periferie.